Buongiorno a tutti e benvenuti. Dunque, non credo che all'interno di queste mura sia necessario presentare Chiara Fogoni, un signo medievista, la cui vita si è più volte intrecciata con la storia della normale. Docente presso le università di Pisa, di Roma, di Parigi, ha scritto diversi libri di cui ricordo con particolare gratitudine Una lontana città, Sentimenti e immagini del Medioevo, prodotto da Inaudi nel 1983. Una preziosa lezione di metodo su come far parlare il passato intrecciando immagini e testi. Potremmo però continuare rileggendo insieme, insieme a lei, quella sorta di riscatto dei secoli bui, secondo la troppo fortunata e molto infelice espressione di Indro Montanelli, che è Medioevo sul naso, occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, che è uscita per i tipi di La Terza nel 2001. Oppure la figura di Enrico Scronvegni, mecenate, in L'affare migliore di Enrico, in Inaudi 2008. In anni recenti, quale Francesco, il messaggio nascosto degli affreschi della Basilica Superiore di Assisi, ricapitola i suoi studi trentennali sulla affascinante personaggio di Francesco d'Assisi. L'ultima sua fatica ad oggi è Uomini e animali nel Medioevo. Storie fantastiche e feroci, uscita con Il Mulino nel 2018, un titolo che sembra riecheggiato da quella sorta di cronache del post-medioevo, che è Ballate per uomini e bestie. L'ultimo disco appena uscito di Vinicio Caposela, che è quasi pleonastico presentare anche egli, questo menestrello dei nostri tempi, lo possiamo definire così, che debutta negli anni 90 con All'1.35, vince in questa occasione la Targa Tenco, e un premio che gli viene attribuito altre tre volte negli anni successivi. Nel 92 Modì, nel 94 Camera Sud, che ne sanciscono il trionfo sia in Italia che all'estero, e infine il Ballo di San Vito del 96, che è una sorta di album di svolta. Nel 98 il primo live con Cocani Orchestra, live in Volvo, 2000 canzoni a manovella, album di storia, geografia e scienze, poi il primo romanzo, edito con Feltrinelli del 2004, Non si muore tutte le mattine. E ancora discografia successiva, Ovunque proteggi, 2006, Da Solo, 2008, Marinaia e Profeti e Balene del 2011, che si sviluppano intorno al mito, al rito, alla maschera, alla solitudine, all'epica, al destino, tematiche tutte declinate in altrettanti spettacoli di grande successo. Del 2012 è Rebetico Gymnastas, sorta di Mediterranean Social Club, sulle musiche dell'assenza, registrato ad Atene con musicisti di Rebetico. e quindi il Rebetico, come forma anche di resistenza culturale alla crisi greca, è oggetto di Tefteri, edito per il Saggiatore, e di Indebito, un film documentario realizzato con Andrea Segre. Del 2013 è la nascita dello Sponsfest, e la produzione di Primo Ballo, con la banda della posta, quindi la ripresa della musica popolare da ballo, Irpinate. E quindi dal mondo delle origini arrivano anche il secondo romanzo, Il Paese dei Coppoloni, candidato per Feltinelle allo strega nel 2015, e il doppio album Canzoni della Cupa, 2016, cui seguono due spettacoli teatrali sui temi dell'ombra e dell'inverno, un tour estivo di forte impronta folk e una serie di pubblicazioni e concerti in diversi paesi del mondo. Ha poi vinto il prestigioso premio Tenco nel 2017, nel 2018 il primo tour con un'orchestra sinfonica intitolato Nell'orcaestra e proprio in questi giorni è appunto uscito Ballate per Uomini e Bestie. Sia nel disco di Caposela che nel libro di Frugoni le bestie e gli uomini si muovono su uno sfondo medievale, storico nel lavoro di Frugoni, allegorico poetico in quello di Caposela. Partendo quindi da un evento capitale del massimo medioevo, qual è la peste nera, chiederei qual è il rapporto di analogia tra la tramors da una parte e dall'altra le moderne pestilenze. Prego. Prendo io la parola per umiltà. Mi sento veramente piccolo qui in questa bellissima aula blu. Queste canzoni, le mie Ballate per Uomini e Bestie nascono da una serie di ritiri, di purificazione un po' dalla dittatura, dell'autualità che diventa sempre più invadente. Normalmente a inizio anno ho un piccolo rifugio in un paese semiabbandonato, dell'Irpinia, e a ogni inizio di anno mi sono messo a scrivere canzoni che avessero come forma la ballata e attingessero un po' a questo mondo insomma tratteggiato dai trovatori, anche queste figure allegoriche che vengono un po' da questo non tempo, perché io non sono uno studioso del medioevo, però in compagnia invece di un musicista di musica medievale, proprio l'anno scorso, in gennaio, ci siamo guardati e abbiamo detto ma perché ce ne stiamo qua a leggere queste cose, perché fuori forse c'è la peste, abbiamo avuto questa sensazione proprio di appestamento, ecco che qualcosa da cui fuggire e rifugiarsi nel racconto e dopodiché, dopo di questa presa di consapevolezza, diciamo che questa specie di pestilenza è diventato l'oggetto della scrittura. In tutti quei ritiri mi hanno fatto molta compagnia e ho trovato cose meravigliose su alcuni libri di Chiara Frugoni come per esempio il libro sulla danza macabra di Clusone, Francesco e l'ultimo Animali e bestie nel Medioevo e quindi per me è un grandissimo onore insomma rigirare la domanda e sentire finalmente Chiara Frugoni parlarci. Ecco, grazie. Allora, nel testo dell'ultimo disco la peste è essenzialmente la rete e il modo che hanno ora le persone di rapportarsi che rompono tutti sono due secondo me due temi sono testi bellissimi e sono due temi di questo testo sono il fatto che questo modo di rapportarsi rompe completamente i rapporti sociali e dall'altra parte il fatto che la rete mette in giro una quantità di fake news di odio di notizie che peggiorano ancora il vivere in comune. Ecco, nel Medioevo la peste la peste concreta ugualmente rompe i rapporti sociali e basta leggere l'introduzione del boccaccio al suo Decameron in cui appunto nota questa cosa incredibile straordinaria per cui i padri e le madri non hanno più nessun rapporto con i figli e i figli non hanno nessun rapporto e così insomma tutti i vari parenti cioè che ognuno pensa soltanto a salvarsi e pensa solo a sé e quindi non c'è nessun più senso di umanità di compassione di empatia ecco però mentre qui la peste attuale potrebbe essere anche una peste buona perché bisogna vedere che uso se ne fa la peste medievale era soltanto una peste però c'era anche un altro modo ugualmente che può far vedere un un rapporto e sono appunto i grandi predicatori i grandi predicatori che mettono in giro una quantità anche di fake news e pensiamo anche solo a San Bernardino che è quello che ha creato la strega cioè San Bernardino quando comincia a predicare la gente lui stesso dice credeva che io avessi la febbre ricordiamoci sempre che lui ha avuto un processo per stregoneria e lì è stato assolto però ha imparato tantissimo e c'è una cosa non voglio parlare solo di San Bernardino ma si vede molto bene come lui per esempio arrivando a Todi dopo la sua predicazione cambiano gli statuti di Todi e quindi mentre prima in fondo la chiesa pensava che queste idee di volare o di cose così fossero cose di vecchiette diventano invece appunto appannaggio della strega e c'è un processo molto interessante forse una volta o l'altra studierò di una certa Matteuccia che poverina non sa cosa dire all'inizio che cosa faceva dice ma facevo del male cioè non sa e man mano che va avanti il processo poi alla fine viene bruciata viene istruita e allora comincia a dire che cosa è successo e quindi non solo appunto mettevano in giro tutte queste fake news ma c'erano anche le immagini che è la stessa cosa ugualmente come anche oggi no? quante reclame ci spingono a credere o cose che non sono così per quanto mi riguarda avendo studiato gli affreschi di Assisi gli affreschi di Assisi sono pieni di falsi di falsi voluti e ne cito solo uno e poi mi taccio perché altrimenti parlo troppo ed è per esempio quando Francesco e i compagni vanno a Roma a chiedere a Innocenzo Terzo che approvi questa forma di vita siamo verso il 1208 e il Papa in realtà non dà niente di scritto e quindi se non c'è una regola scritta non c'è un ordine riassumo rapidissimamente tutti i problemi ma insomma va a finire che i francescani fino al 1223 non hanno una regola approvata e allora quando questi affreschi sono stati dipinti al tempo del primo Papa francescano che quindi si può permettere di far dipingere un simile falso Innocenzo Terzo ha il cartiglio con cui è scritta la regola del 23 quindi parla con la voce di Onorio Terzo di 13 anni dopo quindi questo per esempio è un falso assolutamente voluto e che viene propagandato bene questo tema del falso è una allora quando parlo della mia ho fatto un brano in questo disco si chiama La peste la peste a cui faccio riferimento è una peste del tutto allegorica morale ma non è che trova particolarmente un mezzo estremamente efficace in questo strumento nuovo noi siamo all'inizio di una rivoluzione di un cambiamento proprio totale della comunicazione che avviene appunto a mezzo della rete ma soprattutto dell'oggetto dello smartphone non si è ancora codificato nemmeno un codice un galateo un codice di comportamento una normativa si è ancora in uno stato abbastanza istintivo per cui cose come la morbosità come la ma anche semplicemente la perdita di 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 quei di quelle mediazioni che di solito ci sono nei comportamenti tra le persone quando si incontrano di persona appunto svaniscono quindi il mezzo di per sé è un mezzo molto molto efficace e capillare di diffusione di qualsiasi cosa e anche in alcune delle proprio terminologie tecniche il virus l'influencer c'è quasi un riperimento quasi epidemiologico ora non voglio dire che la rete di per sé sia una forma di pestilenza assolutamente no però è sicuramente uno strumento di diffusione estremamente potente estremamente capillare che è in grado di quasi come era l'aria per la peste è uno strumento che riguarda e trasmette a ognuno e quindi alcune delle cose che si quello che è certo è che alcune pulsioni per esempio al basso alcuni lavori sulla creare insicurezza per esempio appunto il diffondersi di credenze false credenze superstizioni come possono essere semplicemente le false notizie questo lavoro enorme sul cambiamento dell'opinione è una è una novità in un certo senso quindi penso che bisogna ancora prenderci bene le misure quello che è certo che ci sono ci sono effetti a ogni a ogni livello sulla politica sul consumo sul però particolarmente anche per esempio sulla diffusione di contenuti osceni cioè materiali che sono che sono nati per essere fuori di scene che vengono messi in scena l'atto oscena in luogo pubblico è un atto sanzionato anche da una normativa mentre invece se concepiamo la rete come luogo pubblico e lo è senz'altro più di ogni altro luogo anzi un luogo pubblico se uno si abbassa i pantaloni in un supermercato lo vedono forse quattro persone ma incredibilmente lo stesso atto posto in rete può essere raggiunto visto da milioni di persone dunque è un luogo iper pubblico ed è pure casi come per esempio quello a cui faccio riferimento la canzone di Tiziana Cantone per esempio è un caso emblematico di come evidentemente non ci sia proprio la percezione anche rispetto alla propria coscienza del fatto di fare qualcosa che può arrecare un danno a qualcun altro e da questo mi ricollego anche a quello che mi diceva lei su questo nonno oppure sulla sensazione spesso si fa danno senza avere assolutamente una consapevolezza di farlo quello che probabilmente in questa fase manca è la acquisizione di consapevolezza ed anche di un sistema di responsabilità anche individuale ecco e questa è la pestilenza diciamo più contemporanea insomma di cui tratta questo brano io mi rivolgerei alla citazione di un libro sempre di Chiara Frugoni la danza macraba di Clusone e quindi vedrei un pochino questo aspetto invece come è stato declinato e rienterpretato da io avrei una domanda ne parlavamo prima siccome parliamo della peste quindi la la peste nera del 300 e tutto quanto noi ci siamo anche incontrati sul territorio del macabro credo che sia interessante ripercorrere questa cronologia del macabro il trionfo della morte danza macabra anzi mi piacerebbe sentirlo sì allora una volta si pensava sempre che il macabro fosse una conseguenza della peste invece non è così anche siamo sicuri ormai anche per le date e in realtà perché la chiesa a un certo punto accetta il macabro perché questo è un tema completamente laico cioè del credente il credente dovrebbe preoccuparsi della sua anima del corpo non dovrebbe avere nessuna preoccupazione e invece la chiesa che di solito prima e sempre sul pedale del terrore a un certo punto è costretta ad accettare e a rappresentare anche proprio sulle pareti delle chiese il macabro e questo perché perché a mio avviso era intanto nato un interzo regno dell'aldilà che è il regno del purgatorio tutti noi abbiamo in mente il libro geniale di Le Goff la nascita del purgatorio e la nascita del purgatorio all'inizio naturalmente è una cosa molto importante da parte della chiesa perché comincia a poter fare un ponte con l'aldilà perché attraverso le buone azioni le donazioni le messe si può abbreviare la pena e quindi non c'è più il tempo eterno o degli eternamente dannati o degli eternamente santi perché il mondo in fondo è piuttosto grigio non è nero e bianco però a lungo andare che cosa succede che la gente capisce che in realtà all'inferno non ci va nessuno perché a meno che uno abbia proprio ucciso qualcuno prima o poi tutti vanno in paradiso e quindi a questo punto la chiesa non ha più nessun mezzo per fare paura ed è per questo quindi che accetta il macabro il macabro serve per intanto assolutamente appiattire qualsiasi valore umano perché il trecento è un periodo di crisi ma anche dove la gente acquista anche un senso di sé delle cose che si possono fare e quindi è un deprivare dire in fondo dopo morte cosa succede e poi anche appunto per fare appunto paura e un esempio qui nel Camposanto ecco vediamo una cosa che a me sembra molto interessante in questo grande ciclo dove c'è il trionfo i tre vivi e i tre morti su cui adesso ritorno e il trionfo della morte il giudizio universale e l'inferno allora ci sono secondo me due cose importanti uno è la prima volta che l'inferno ha uno spazio a sé secondo non c'è il paradiso non c'è assolutamente il paradiso perché è rappresentato solo dagli apostoli che guardano Cristo e Cristo non guarda assolutamente nessuno guarda solo i reietti dell'inferno quindi il ciclo è un ciclo solo di terrore e qui abbiamo già due temi perché i temi macabri hanno un tempo cronologico cominciano con questa che all'inizio era una leggenda di tre vivi e di tre morti cioè tre cavalieri o tre re che incontrano tre scheletri che all'inizio sono vivi e che dicono voi sarete come noi siamo poi in Italia questo tema viene subito preso dalla chiesa che fa addormentare i vivi nelle tombe e quindi è l'eremita come vediamo nel Camposanto è lui che fa la predica e spiega e qui addirittura è ampliato in questa bellissima cavalcata di re e regine poi viene il trionfo cronologicamente poi viene il trionfo della morte e intanto ecco qui è già un'altra cosa importante cioè che non si rappresentano più i morti ma la morte cioè una condizione nuova che viene sentita come appunto una cosa assolutamente che non si riesce più a sopportare e proprio nel Camposanto quello che fa impressione è che il gruppo dei delitti dei lebrosi dei ciechi chiedono la morte ma non per andare in paradiso semplicemente perché non hanno la ricchezza e la salute dei ricchi verso cui sta dirigendosi la morte e quindi infatti dice da che prosperitate ci ha lasciato o morte medicina ad ogni pena de dieci de bien ci a dare ormai l'ultima cena con un dialogo anche un po' blasfemo e la morte appunto va verso questo giardino di Gaudenti dove ci sono appunto sette donne tre cavalieri quindi questo ha fatto pensare che anche il boccaccio forse fosse passato così e supera questo gruppo di cadaveri dove si vede è molto interessante dove appunto si deprime per esempio la scienza umana perché c'è un dottore che c'è ancora il suo vaso dell'urina ma il suo libro è chiuso mentre l'eremita ha il libro aperto e poi si arriva con questo concludo l'ultimo tema in in senso cronologico si arriva alla danza macabra che diventa invece una violentissima protesta sociale dove proprio i ricchi vengono dimostrati nel loro terrore della morte e che vengono quindi costretti in questa sarabanda scomposta quindi vediamo il cardinale che viene strappato alla sua scrivania il mercante che gli viene portato via i soldi oppure circa ancora di corrompere la morte e questo è l'ultimo sviluppo dei temi macabri intanto io ho preso una frase dal suo libro sulla danza macabra di Clusone che si trova appunto lì il trionfo della morte piena di equalezza voglio solo voi e non vostra ricchezza a Clusone non c'è tutta questa virulenza però il mio interesse per la danza macabra nasce anche da una motivazione più appunto sociale il fatto che sulla paura si è sempre fatto un lavoro molto strumentale al potere in quel caso potere temporale oppure politico e tuttora il lavoro che si fa sulla paura sul creare anche false paure è un lavoro massivo che determina che determina anche orientamenti politici economici insomma c'è un grandissimo lavoro mi piace dire che lo spavento è una cosa popolare è anche educativa ci sono tantissimi io sono affezionato a quelle figure dei crampus delle cose che servono proprio hanno questo ruolo pedagogico quando si è bambini arriva San Nicolò come lo chiamano accompagnato dal crampus che ti spaventa e tu da quello spavento ricevi una forza qualcosa che ti abitua a superare la paura perché lo spavento secondo me è una cosa proprio fatta in casa ed è piuttosto pedagogica mentre invece la paura è una cosa paralizzante e naturalmente dalla paralisi nasce si recede ci si fa piccoli si è più disposti alla rinuncia in cambio di qualcos'altro di qualcuno magari che gestisce quella stessa paura e dice a cui come poteva essere la chiesa una volta ma anche semplicemente il bisogno ora di sicurezza rinunciare a diritti per questa presunta necessità di sicurezza quindi da un lato c'è veramente un lavoro un discorso secondo me anche politico sociale poi c'è un discorso invece molto figurativo mi piacciono moltissimo per esempio i disciplini come sono l'arte figurativa dedicata alle danze macro e al trinofo della morte è proprio una cosa accattivante bella forse perché appunto c'era questo bisogno di raccontare con immagini però c'è anche questo lato non solo del macabro ma anche del grottesco questa cosa di fronte alla morte sia la cultura popolare si è anche armata di tanta ironia di tanti piccoli trucchi per già solo dipingere la morte raffigurarla con uno scheletro che ti viene a prendere tutto quanto è già un po' come posso dire prenderci un po' più confidenza poi nel mondo popolare nel mondo contadino per esempio questi studi bellissimi di De Martino sul pianto rituale il pianto rituale è una forma antichissima di ritualità sostanzialmente a mezzo del lamento del pianto rituale portare a misura una cosa smisurata come il dolore della perdita che la morte è sostanzialmente un annullamento del è il confronto con il nulla con quello che è tutto che sparisce intorno quindi questa crisi totale di identità e di senso di significato del mondo che si dipinga uno scheletro oppure il pianto rituale oppure anche semplicemente gli scongiuri è tutta una serie di artifici diciamo così della cultura popolare che sono anche piuttosto magari anche ironici e poi c'è un'altra cosa che mi piace ricordare della cultura proprio popolare parlo per esempio del sud del paese di mio padre ma è un modo di dire che si usa anche in altre regioni il fatto che quando uno muore si dice è andato al mondo della verità siccome ci occupiamo di bestiari medievali la prima cosa del medioevo chiara è che la realtà non coincide con la verità cioè ci deve essere un piano diverso e per cui la realtà è tutto insomma simbolo di qualcos'altro che è il libro della natura che leggiamo e quindi questo fatto che nella cultura popolare si collocasse l'andare il morire l'andare finalmente in questo mondo della verità è una cosa che è uno dei tanti piccoli trucchi insomma che io credo che la morte ora come ora che è disarmata in questo mondo completamente desacralizzato di tutte disadorna di tutte queste piccole si erge in maniera molto più terrificante non terrificante ha perso proprio il terrore ma è aumentato il senso del nulla si muore da soli a parte negli ospedali è veramente l'ultimo tabù della civiltà dei consumi la morte cioè è qualcosa che non ci sono più neanche queste bellissime allegorie cioè la morte è proprio clinica e separazione dal mondo della produzione e quindi benvengano tutti questi trucchi che l'uomo si è dato per rendere più per colorare insomma questo grande buio allora passiamo da da questa immagine vuota e fredda diciamo al calore dell'amore l'amore di Francesco che è stato ripreso anche da entrambi e reinterpretato su Francesco deve parlare allora c'è una in una delle delle canzoni si parla della perfetta Letizia quindi io mi fermo un attimo su questo testo famosissimo della perfetta Letizia in cui Francesco con frate Leone enumera tutte le cose migliori che potrebbero capitare per esempio tutti i musulmani che si convertono tutti i francescani che occupano che occupano le cattedre di Parigi sottolineo che il testo non è di Francesco perché poi come vedremo in realtà è un testo che anche ha giocato contro Francesco allora appunto Francesco ogni volta dice scrivi Leone pecorella di Dio questa non è la perfetta Letizia non sarebbe la perfetta Letizia la perfetta Letizia che cos'è? e quando noi arriviamo al nostro convento il portinaio apre cioè bussiamo e dice io sono frate Francesco e questo ci dice noi non vogliamo più avere a che fare niente con te perché intanto appunto i francescani sono così cambiati e questo è nella realtà che Francesco è improponibile come come modello dei francescani dice allora se tu riesci veramente a sopportare tutto questo e senza provare nessun senso di risentimento questa è la perfetta Letizia allora io credo che questo da una parte appunto essendo un testo tardo riflette questo desiderio che aveva Francesco di guardare sempre e spingere i compagni che all'inizio erano compagni di altissima virtù verso un un traguardo altissimo cioè lui diceva non guardiate le nuvole guardate le stelle dall'altra parte però morto Francesco questo testo che cosa ci dice cioè i frati come lo prendevano e dicevano ma questo è qualcosa che poteva fare Francesco ma noi non possiamo essere così e quindi diventa un testo che rende ancora più inattuale Francesco ed è la stessa cosa che è successa con le stimmate le stimmate è San Bonaventura che ha fatto di Francesco il santo delle stimmate e però è San Bonaventura che quindi dopo aver detto che Francesco con queste ferite che sono le ferite di Cristo ha raggiunto un'altezza inimitabile dice proprio San Bonaventura dice Francesco è un santo da ammirare ma non da imitare e questo è un modo per cercare di rendere il fondatore certamente il migliore dei santi possibili però è come in una teca e allora che cosa si propone ai frati di seguire grandissimi santi che intanto l'ordine ha ma che sono molto più tradizionali presentiamo Sant'Antonio da Padova santo coltissimo ci sono rimaste queste bellissime prediche tutte in latino ma non ha niente di quello che proponeva Francesco che sia anche basato sul Vangelo era estremamente versivo quante se ne apprendono io mi sono avvicinato a questo testo perché avevo un concerto da Sisi davanti proprio alla Basilica e quindi mi sono letto un po' di cose mi sono incappato in questo meraviglioso fioretto dove la prima cosa che mi ha attratto è stato ve lo dico in un senso quasi quasi comico perché dice insomma sapete la storia cammina e dice e fa una serie dice una serie di cose straordinarie se anche possedessi la scienza e la cosa se perfino sapessi distendessi gli attratti i demoni cacciassi e che maggior cosa è risuscitassi il morto di 4D che per un aspirante santo è proprio più di Lazzaro è come avere più di Lazzaro come avere tre lauree qua la normale il morto di 4D non in ciò è perfetta Letizia e poi altre cose le scienze le cose insomma se avessi poteri miracolosi se avessi la conoscenza di tutti dei sassi delle piante della terra non in ciò è perfetta Letizia se anche possedessi tutte virtù straordinarie non in ciò è perfetta Letizia e dunque in cosa è perfetta Letizia se noi torniamo in Santa Maria degli Angeli e il portinaio non ci farà entrare e ci lascia fuori al freddo e alla piova e infino alla notte e noi insistiamo e torniamo dicendo no lui non ci fa entrare anzi piglierà e batterà ci a nodo a nodo con quello bastone ivi è perfetta Letizia all'inizio mi sembravano parole oscure però poi si è chiarito di più quando lui dice se noi sopporteremo tutto questo senza mormorazione senza turbazione e con allegrezza ecco in ciò è perfetta Letizia allora questa faccenda dell'allegrezza mi ha veramente conquistato perché allora sì perché lui dice sostanzialmente tutti i doni che ci vengono tutto quello di buono che c'è nella vita comunque non è merito nostro è un dono e se lo vogliamo vedere anche in maniera laica cioè tutto quello che la fortuna ci riserve in un certo senso è una fortunata congiunzione di eventi di cui siamo parzialmente responsabili ma della capacità di accettare la difficoltà il dolore la pena insomma portarsi la propria croce con allegrezza questa sì che è una cosa che è proprio cioè l'unica cosa di cui ti puoi seriamente fare gloriare ecco dice e questa cosa è vera questa mi sembrava una cosa paradossale però ho detto accidenti questo sì che che mi renderebbe migliore ma naturalmente sono molto molto lontano visto che non è esattamente l'allegrezza che mi che consegue agli inciampi agli ostacoli della vita ma io volevo parlare con lei anche di questa faccenda della dell'altissima povertà della proprio della questione del anche Agamben ha fatto ha parlato di questa cosa rivoluzionaria perché pensate che mondo diverso sarebbe se viene completamente c'è un passaggio di Oscar Wilde quando parla del Cristo come poeta che è bellissimo nel De Profundis dice poi Cristo non è che ha no no in una lettera questo dice Cristo non è venuto a salvare gli uomini ma insegnarsi a salvare a salvarsi l'un l'altro poi dice questa cosa che che quando dice al ricco dai tutto al povero non lo dice per il bene del povero ma per il bene del ricco perché è lui che si libererà e finalmente e queste cosette che mi raccontava di questo suo consanguineo mi hanno fatto vogliamo fare due riflessioni su questa sull'altissima povertà ecco sì cioè se noi pensiamo che i francescani oggi sono un ordine mendicante si chiamano l'ordine mendicante e Francesco aveva proibito ai frati di chiedere l'elemosina perché lui dice è rubare i poveri cioè Francesco aveva tutto un altro progetto intanto i frati lavoravano e lavoravano con le loro mani senza ricevere niente tranne la sussistenza di un giorno solo neanche il cibo per il giorno dopo non voleva nessuna cosa in muratura ma solo capanne di frasche o stare nei lebrosari e assolutamente non ricevere mai mai denaro quindi questo è qualcosa di assolutamente rivoluzionario e quando il vescovo di Assisi dice ma mi sembra troppo dura questa vostra vita com'è possibile che non vogliate avere una casa e Francesco dice ma se avessimo una casa avremmo bisogno delle armi per difenderla e quindi è da qui che nascono le liti e le guerre quindi questa idea è assolutamente rivoluzionaria perché è vero che per esempio i monaci vivevano ognuno povero ma la comunità era molto ricca mentre invece quello che Francesco vuole è di vivere come i poveri cioè la chiesa fino allora aveva mantenuto i propri privilegi e aiutava i poveri invece Francesco si fa povero e all'inizio i francescani non si possono individuare come francescani fra gli altri poveri perché vivono anche degli abiti che la gente dà da loro quindi questo lo si vede anche nelle prime immagini ci sono i francescani vestiti di rosso di verde di viola di qualunque di qualunque di qualunque cosa quindi l'idea di Francesco appunto è quella di non possedere nulla e questo viene poi trasmesso anche a Chiara una grandissima santa di cui nessuno mai parla poco amata al tempo di Francesco assolutamente non amata oggi la quale addirittura invoca il privilegio dell'altissima povertà che prende proprio da Francesco cioè perché le monache al tempo di Chiara vivevano poverissime singolarmente ma appunto essendo donne custodite avevano grandissime proprietà e Chiara invece chiede e ottiene di non essere costretta ad avere nessuna proprietà e anche Chiara viveva con le sue consorelle del lavoro delle proprie mani quindi era un progetto assolutamente rivoluzionario un progetto soprattutto per i laici è un'altra cosa che è stata completamente dimenticata Francesco non pensava a un ordine religioso era per i laici e lui rimane sempre un laico e il problema poi che le fonti tardi parlano di lui come diacono è molto controverso ma comunque la sua idea è quella di dare un posto nella società ai laici e la cosa appunto che scardina la vita di Assisi della piccola Assisi è che quando all'inizio sono poche persone di grandissime virtù molto colte bravissime che fanno tutto questo lavoro gratis scardinano completamente i rapporti e quindi succede che cosa succede che Francesco dà la voce ai poveri che non avrebbero mai potuto protestare mentre invece Francesco gliela dà e dice sempre se non avete da mangiare nella nostra comunità un tozzo di pane l'avete sempre quindi quello che lui dice è che non è che un povero deve fare pena si deve meritare l'elemosina appunto come si diceva appunto che lo fa per sé e non per gli altri invece poveri cioè lui sente moltissimo questa ed è questa un'altra delle ragioni per cui mi è stato anche così simpatico nel senso che è un santo che si fa molto carico dei problemi della società ricordiamoci che lui è figlio non tanto di un mercante quanto di un usuraio un usuraio di una straordinaria ricchezza era una delle famiglie più ricche di Assisi e quindi lui aveva ben presente gli squilibri della società e ricordiamoci anche solo che cosa poteva capitare nel medioevo cadere da un albero non c'erano mica il gesso si diventava storpi e quindi immediatamente non si poteva più più lavorare quindi lui si fa molto carico di questo e vuole suggerire un altro modo di rapporto un rapporto fondato sempre sull'empatia e nel capire soprattutto i problemi degli altri cioè quello che mi sembra la cosa proprio nuova di Francesco è quella di prima di giudicare di capire qual è il problema dell'altro e di a questo punto capire e a questo punto allora parlargli e non so se vogliamo già parlare del fioretto del lupo che è proprio la cosa principale di questa sua cosa ma non so se vuoi parlarne prima no no io vorrevo proprio ascoltare il fioretto del lupo allora il fioretto del lupo di Gubbio naturalmente è famosissimo lo sanno tutti vorrei sottolineare alcune cose allora intanto è un lupo vecchio perché infatti dopo il miracolo del lupo di Gubbio muore dopo due anni quindi è un lupo vecchio che è stato cacciato dal branco quindi c'è già il tema anche della vecchiaia della incapacità del sopravvivere e quindi questo lupo è costretto è costretto ad avvicinarsi e a mettere in pericolo anche la sua vita oltre che a quella delle pecore e il discorso che fa Francesco è duplice all'inizio è la voce della gente di Gubbio che protesta e poi Francesco invece fa un discorso che è straordinario se noi pensiamo ancora che si dice in bocca al lupo crepi il lupo i tre porcellini e via dicendo lui gli dice io so che tu per fame hai fatto questo perché sei stato creato carnivoro cioè Francesco si ha molto presente che nel nel Genesi ci sono due racconti che di solito vengono messi tutti insieme ma c'è prima un racconto in cui si parla di un mondo felice e tutto vegetariano dove anche le belve mangiano l'erba e dove non c'è assolutamente il peccato di Adamo e Deva e finisce benissimo poi si ricomincia con un altro con un altro racconto dove invece c'è poi il peccato di Adamo e Deva e quindi a questo punto anche gli animali cioè entrando nel mondo la violenza la morte con l'uccisione di Abele anche gli animali diventano carnivori e quindi Francesco quello che dice è io so che tu per questo uccidi in un certo senso è un rimprovero agli abitanti di Gubbio che gli dicono come se dicesse ma insomma voi volete che questo lupo non mangi allora dateli prima da mangiare e vedrete che non farà più niente quindi per prima cosa si mette dalla parte del lupo e l'altra cosa bellissima è che lo chiama fratello frate lupo cioè lui ha l'idea di questa creazione meravigliosa dove tutti sono fratelli e dove dà anche uno spazio per esempio ai fiori non so lui dice al frate ortolano non coltivare tutto l'orto lascia una parte in colta perché crescano i fiori spontanei e questo è un modo per glorificare la bellezza del creato oppure quando si dice di tagliare gli alberi dice sempre lasciate che possono ricrescere quindi ha questo senso appunto di non privare della bellezza e della gioia e quindi anche dell'apprezzamento della creazione e se posso ancora dire una piccola cosa ricordiamoci sempre che Francesco vive in mezzo ai catari che erano queste persone degnissime che la chiesa bolla come eretici che avevano però una concezione estremamente cupa del mondo quindi del fatto che lo spirito è dentro al corpo e quindi bisogna cercare di possibilmente di morire in fondo il prima possibile quindi per esempio il cantico delle creature è una risposta tipica di Francesco che non attacca i catari che sono stati sterminati dalla chiesa ma invece che dice quanto è bella la creazione e se pensiamo che quando lui parla di questo sole meraviglioso radiante lui è cieco è già cieco eppure fa questo lode meravigliosa la luce ma due parole su questa questa fratellanza che permette anche di comunicare Francesco è noto per quello come anche il bellissimo film di Pasolini ci ricorda questa questione proprio del superare la superare questa barriera io in questo disco ho fatto un brano anche io sul lupo è un lupo particolare è un lupo un lupo mannaro l'Ugaru ha un'introduzione che voglio ricordare visto i giorni appena passati dice così sono un mannaro dentro sono un mannaro melanconico la billa nera la billa nera mi invade durante il rito elettorale quando il paese si denuda un desiderio mi assale un desiderio di carne cruda e quindi questa questa separazione iniziale di questo sonno primordiale di sonno animale che ci accomuna questa origine comune animale che poi questo questo limite tra le specie che si impone con mi piace molto facendo del licantropo questo tentativo di infrangere questo limite che la natura ha posto e quindi di correre a quattro zampe di nutrirsi di carne cruda di 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 sacco di cose il licantropo in questione è particolare perché c'è carlo donà parla di di un di un di un caso del seicento a padua di un contadino che si che si dichiara lupo mannaro ma semplicemente verso pelo cioè i peli invece di averli fuori li ha dentro e gli porta molto male questa confessione perché perché per verificarlo lo scotticano e poi li mozzano anche i piedi in modo da restituirgli l'umanità allora la mia canzone insomma si muove un po' tra queste cose però quello che è importante questo limite questo io credo che da sempre l'uomo ha un rapporto con l'animale è un enigma l'animale perché nelle prime testimonianze che vanno al di là della lotta della sopravvivenza le prime figure che l'uomo che l'uomo con questo grande atto di 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 solversione proprio la mera lotta alla sopravvivenza dipinge delle figure dipinge figure di animali e spesso il sacro no? è il mistero del sacro nel volto animale nel io stesso nel guardare un animale c'è qualcosa di irrisolto qualcosa che 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 ti parla direttamente ma parla a un'altra cosa che non è la parola no? e quindi questo questo limite che la natura le forme hanno posto è interessante come anche Francesco lo supera e con questo forse più con non con le parole immagino ma probabilmente trovando un altro sistema per comunicare che idea si è fatto su questo parlare agli animali di Francesco? ma allora c'è per esempio la predica agli uccelli la predica agli uccelli in realtà se noi guardiamo San Buonaventura dice che Francesco parlò agli uccellini mentre invece i primi biografi in particolare Tommaso D'Acelano francescano da tutto una lunga linea di di uccelli a cui ha parlato cioè colombe monachine uccelli d'acqua e proprio allora io ho pensato che ogni volta che Buonaventura taglia un pezzetto c'è una ragione allora se guardiamo nei libri del tempo proprio questi uccelli tutti questi uccelli che inumera Tommaso D'Acelano rappresentano le varie classi nelle varie classi sociali mentre gli uccelli rapaci sono i nobili e l'alto clero proprio solo gli uccelli che nomina Tommaso D'Acelano sono i poveri derelitti e i contadini e quindi la predica agli uccelli non è una predica agli uccellini è una predica agli uomini quindi Francesco sì poteva parlare in questo suo modo forse anche agli animali e gli animali possiamo anche pensare che lo ascoltassero ma certo per esempio quella degli uccellini e degli uccelli è un cambiamento è una delle tante censure sulla predicazione degli uccelli ecco e poi forse volevo ancora dire una cosa sul lupo cioè che forse il lupo è ancora rimasto anche per noi un animale che fa paura e nel medioevo era proprio il terrore non solo perché attaccava in branco e quindi con quelle piccolissime lance che c'erano in legno con solo la punta in metallo non si riusciva ma c'era anche un'altra leggenda che era quella che i lupi anche d'inverno potevano campare perché mangiavano il vento si nutrivano di vento e c'è una bellissima poesia di François Villon che dice che lui è solo in questa stanza praticamente non riscaldata c'è solo un tizzone e sente i lupi che appunto aprono questa golla e mangiano il vento quindi era veramente il terrore e una delle cose che diciamo ancora noi oggi lupus in fabula viene proprio dal medioevo io stessa devo dire che non lo sapevo l'ho imparato studiando cioè che per cercare di domare la paura si inventavano molte cose nel medioevo quindi per esempio nel rapporto con lupo era fondamentale chi dei due si vede per primo cioè se io vedo per primo il lupo il lupo scappa se il lupo vede me mi mi mobilizzo e sono perduto e quindi allora proprio lo dice il testo medievale dice per questo si dice lupus in fabula perché anche noi oggi ancora quando stiamo parlando di una persona se la persona arriva ci fermiamo quindi ecco per ricordare ecco che lunga storia c'ha dietro il lupo e come io credo che il lupo sia rimasto così vivo mentre invece un altro animale che è l'orso di cui appunto c'è anche un'altra canzone invece noi ormai è il il piccolo orsacchiotto perché l'orso è stato completamente sterminato e quindi è potuto sopravvivere come come orsacchiotto poi c'è l'episodio di Roosevelt che aveva cacciato un povero cucciolo e si rifiuta di di trattarlo male quindi per questo si comincia a parlare di teddy bear eccetera e quindi come appunto l'orso è un re decaduto e quindi viene portato in giro soprattutto dai dai giullari e noi non abbiamo più paura dell'orso che invece è carnivore ed è pericolosissimo mentre continuiamo a avere paura del lupo che di solito oggi almeno non attacca l'uomo questa storia del lupo lupus in fabbro cioè questo che se vede chi vede prima è utilizzata in una maniera che ho trovato meravigliosa nel bestiario d'amore di Richard de Fornival che è un bestiario bellissimo dove tutte le queste credenze queste qualità che si attribuivano agli animali in gran parte anche immaginali sia agli animali che le credenze però vengono declinate nel discorso della seduzione amorosa allora dice in amore succede così chi dei due si rivela per primo diventa debole allora dice io a voi mi rivelai per primo ed ecco che mi avete aggredito con tanta furia che mi avete lasciato insomma quasi distrutto è molto bello e sull'orso io ho fatto una canzone che si chiama di città in città e porta l'orso l'ho fatta da un lato c'è la figura dell'orsante cioè quello che si guadagna la vita portando in giro l'orso e poi c'è soprattutto la figura dell'orso questo grande il vero re della foresta europea c'è quel bellissimo libro di pastoro dice il re decaduto perché quali sono i motivi per cui la chiesa gli sostituisce c'è il leone perché sembra quasi che l'orso era il re della foresta poi si è addormentato perché va in letargo e si è trovato il leone al suo posto e allora da quel punto di vista è iniziato da quel punto è iniziata la sua decadenza e è iniziato a essere una specie di giullare di clown quasi una figura cristologica giullare fino a finire addomesticato completamente nella forma di peluche ma quali erano i motivi per cui la chiesa inalpica io non vorrei cominciare a polemizzare con pastoro perché non sono assolutamente d'accordo su questa sua teoria perché secondo lui l'orso era portatore di valori laici e quindi lui comincia con i celti e insomma e quindi fa tutta un'interpretazione storica per cui a un certo punto sarebbe invece risorto il leone e quindi con un cambiamento di immagini politiche devo dire che secondo me non sono suffragate da documenti però siccome non c'è qua pastoro è brutto parlare senza avere un contraddittorio nel mondo accademico bisogna stare attenti io butto cose adesso però a me è piaciuta questa storia perché sostanzialmente lui diceva che che era la forza pagana cioè tutte le popolazioni pagane europee soprattutto del nord vedevano nell'orso cioè proprio il simbolo della forza avevano si si vestivano con pelli d'orso oppure i denti dell'orso tutte cose da cui insomma si traeva la forza allo stesso tempo l'orso è molto divertente nel libro come viene insomma la paga cara per essere così soprattutto ghiottone per i suoi vizi insomma per le sue inclinazioni era lubrico c'erano tutte queste faccende sull'orsa che proprio anche con gli umani sì sì insomma e quindi essendo insomma allora dice no come re non è abbastanza regale ecco questa era un po' la cosa e quindi finisce appunto non ci sono documenti no non ci sono documenti è una supposizione però è vero che l'orso campeggia in moltissime città europee come c'è proprio una una sua regalità la deve la deve avere avuta e a dispetto dei suoi appetiti insomma diciamo ma vogliamo parlare di un altro animale sì magari anche del maiale proprio del maiale sì è un animale fondamentale soprattutto nella cultura occidentale beh il maiale è un altro animale molto prossimo all'uomo l'orso e il maiale sono due animali proprio come costituzione anche adesso in medicina insomma spesso gli organi interni è molto c'era io sono innamorato di un testo di Giulio Cesare Croce che si chiama eccellenza e trionfo del porco è una specie di rablet emiliano e in questa sua eccellenza dice proprio fa anche solo la come si dice nella parola porco c'è già l'anagramma di corpo no è tutto corpo quindi è proprio la creatura del corpo è così corpo che gli avanzano giusto le zampette che escono appena un po' fuori ma è tutto corpo ecco quindi essendo tutto corpo riassume proprio l'imporsi proprio del corpo della fisicità della della in una magari insomma in religione si è sempre un po' contrapposto il corpo allo spirito lui proprio lo spirito non ci ha rinunciato diciamo è proprio corpo nel mio disco c'è un l'unico pezzo autobiografico si chiama il testamento del porco e proprio prende dall'inizio tutta la no è un pezzo serio è proprio primetrica a mia moglie la gran miseria lascio il trionfo delle budella lascio il ricordo di quel che è stato quando di fianco a fianco passevamo felici nel fango e di coprirla non ero mai stanco e seppur non ho visto il cielo e semmai non ho visto le stelle perché questo faccenda che il maiale è molto molto attaccato al suolo nella gioia di grufolare e di vivere da maio forse dovrei ho un po' di reticenza a cantare questo testo però insomma di sicuro c'è c'è moltissimo da dire e da cantare su questo per la metafora è troppo e poi la cosa interessante anche del maiale è che in diverse lingue ha persino un nome diverso a seconda che lo si intenda da vivo oppure come come cibo come carne insomma nei suoi studi cosa ci può dire di questo nobile animale ma intanto ecco direi che proprio in questa canzone cioè il maiale si che riprende appunto un testo medievale perché il testamento del porco è un testo medievale in cui nel testo si dice che appunto non si butta via niente perfino i peli servono per fare i pennelli dei pittori ecco però in questa canzone quello che mi sembra molto bello c'è anche questo accenno a come vivono questi animali chiusi sempre non può mai vedere il cielo cioè in fondo questo nostro modo di trattare gli animali per cui amiamo tantissimi cani e gatti e poi non ce ne importa assolutamente niente e anzi addirittura non si pensa mai cioè per noi il maiale è un prosciutto e la gallina è un pollo già già legato ecco nel medioevo invece era molto più semplice nel senso che intanto il maiale è molto familiare ed è un animale che gira per la città addirittura a Siena c'era si faceva un bando tutti gli anni per chi poteva portare il proprio branco di maiali alla piazza del campo in modo tale che quando c'era il mercato si potessero raccogliere il grano le granaglie e il maiale appunto era molto più piccolo e assomigliava molto al cinghiale anche perché venivano cioè viveva allo stato brado quindi in queste grandi foreste di querce e si incrociava anche col cinghiale quindi erano un maiale molto diverso quindi in generale c'era lo stesso atteggiamento che c'è un po' in tutti nel mondo contadino verso gli animali che c'è un atteggiamento di uso degli animali ecco c'è invece una cosa diversa per cui i maiali erano sentiti pericolosi soprattutto le scrofe perché le scrofe mangiavano i bambini cioè i lattanti lasciati magari sull'erba dai contadini spesso spesso mangiavano e proprio Pastureau riporta un processo e si facevano processi agli animali e ne riporta uno che è molto interessante perché allora per tutto il medioevo si fanno i processi agli animali con un avvocato e il povero animale viene vestito da uomo finisce ovviamente sempre male per gli animali e in realtà all'esecuzione devono venire sia il contadino che proprietario di questa scrofa perché impari a custodirla meglio ma anche i maiali che devono imparare ecco questa cosa che sembra così strana io ho trovato presentando il mio libro sugli animali che in realtà è qualcosa che è ancora assolutamente vivo soprattutto nel mondo contadino cioè ho trovato tantissime persone che mi dicevano mio nonno che faceva il contadino per esempio ha impiccato una volpe perché un'altra cosa per esempio i lupi e le volpi venivano impiccati e lasciati impiccati e dicevano che avevano fatto questo perché le volpi imparassero o i lupi imparassero cioè questa idea che gli animali in fondo sono così vicini agli animali agli uomini che possono anche capire volpi impiccate c'è un libro bellissimo di Pasidina sulle volpi impiccate ma io voglio anche riportare invece un caso di un maiale io ho un amico mago Christopher Wonder che per un periodo si associò proprio aveva questo piccolo pig che aveva dipinto di viola e si guadagnò anche il nome di pig boy lui l'aveva naturalmente ammaestrato era molto molto intelligente questo questo piccolo lui non riusciva a dire maiale in italiano diceva miale allora il suo miale l'aveva domesticato faceva uno spettacolo insieme e giravano in tournée lui e il miale e in questa catena di alberghi che sono tutti uguali in America dove andavano c'erano sempre due lettini passavano la notte a scambiarsi di letto perché dove andava lui voleva venire il miale e insomma la notte era movimentata era intelligentissimo e poi Wonder venne in Italia e proprio la sera che avremmo qualcuno gli disse no devi conoscere questo capo e lui quella sera invece rimase a casa perché era a lutto perché aveva ricevuto la notizia che il suo miale era morto naturalmente essendo un miale del mondo dello spettacolo era morto mangiando un sacchetto di artifici fuochi cioè purtroppo questo era però per dire che la 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 vicinanza questo era un maiale molto piccolo sono questi vietnamiti no che ma sul campo per esempio del degli animali nel mondo dello spettacolo sarebbe anche un'altra un altro capitolo da da affrontare ma ma non è questa la sede perché però già nel medioevo forse si facevano moltissimi spettacoli con certamente con gli orsi gli orsi venivano ammaestrati io ho trovato anche una miniatura in cui c'è un addirittura un un ammaestratore che vuol far parlare questo orso però questo si dice sempre a a a non va avanti più che dire a evidentemente e quindi sì gli animali venivano ugualmente appunto ammaestrati portati portati in giro e a proposito del miale è interessante il rapporto con sant'antonio abbate il fatto del questa figura di 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 antonio quasi prometeo che scende nell'inferno accompagnato sempre da questo maiale cingale e anche era interessante questi questi maiali che venivano destinati diciamo a non si potevano toccare perché poi da questi veniva ricavato il grasso che poi per fuoco di sant'antonio cioè nel mentre oggi noi parliamo di fuoco sant'antonio per l'espes zoster che non è niente invece nel medioevo mangiando una segale cornuta insomma si prendevano era una malattia terribile e quindi il appunto l'ordine di sant'antonio abbate allevava tantissimi maiali e infatti per questo ancora oggi sant'antonio abbate lo si individua perché c'è sempre il maialino vicino perché col grasso del maiale si cercava di lenire il terribile bruciore che provocava questa malattia peraltro una malattia dei poveri perché era chi non si poteva permettere esatto il grano quella che Santa Caterina voleva dare ai poveri dicendo che la Madonna poi avrebbe fatto il miracolo devo dire che a me Santa Caterina non è tanto simpatica perché faceva sempre i miracoli per esempio non so dava sempre gli abiti dei fratelli ai poveri non dava mai i suoi e soprattutto dava la farina andata male ai poveri dicendo che tanto la Madonna poi avrebbe fatto il miracolo sarebbe diventata una farina buonissima magari facciamo qualche domanda dal pubblico allora prego non c'è un microfono c'è un microfono eccolo là no là prima c'era un signore che aveva alzato poi anche il signore là me la sono scritta così faccio presto perché un'altra volta mi avete brontolato perché l'avevo trasformato in una ballata la domanda la domanda è sul versante della speranza quindi sulla versante della ricerca del vero oltre al reale sono due domande per tutte e due e poi una domanda per Vinicio specifica è questo che il rapporto c'è tra dare scandalo e amare o più in generale la seconda domanda tra volere ed essere volere essere ed essere Francesco Rassisi voleva essere amoroso ma tra i suoi fratelli della prima ora ce n'era uno che semplicemente lo era per natura si chiamava frate Ginepro di lui si raccontava tra l'aneddoto della zappa del maiale o quello del rapporto col tirando e questa è la domanda che faccio a Vinicio cosa serve travestirsi magari da frate Ginepro oppure da lupo o da orso serve a dare scandalo in primis a se stessi o all'opposto per fraintendere l'esistente con l'apparire o per nascondersi Francesco allora da scandalo amando i lebrosi e vivendo nei lebrosari perché nel medioevo si pensava che i lebrosi fossero tali o per i propri peccati o perché concepiti da genitori in peccato quindi questo è un modo per dare scandalo però appunto per lui è talmente forte che lo mette nel testamento e dice che il momento in cui tutto cambia è quando lui prima era per lui amaro vedere i lebrosi e poi invece Dio gli fece cambiare e provò fece misericordia lui dice con questi lebrosi e ne provò una grande dolcezza nell'anima e nel corpo quindi io direi che ecco Francesco dava scandalo perché amando tutti sottolineava che appunto tutti anche i lebrosi sono uomini quello che riguarda il travestimento e lo scandalo beh io sono specializzato in travestimento animale ed è una tradizione insomma un mondo una vocazione che mi hanno molto affascinato sempre c'è un libro bellissimo di un fotografo che si chiama Charles Frege che si chiama Wilderman è andato a fotografare un po' in tutta Europa tutti questi travestimenti di uomini che si travestono in un certo modo in animali dai crampus che ci sono anche nel nostro Alto Adige o o in merdules della barbagia e se uno guarda questo libro c'è una tale varietà di una tale fantasia di spesso questi travestimenti riguardano non soltanto gli animali ma anche elementi arborei questa questa vocazione insomma di io trovo che sia un po' un tentativo di superare di recuperare una dimensione animale o di infrangere quel limite di cui parlavamo prima e in un mondo che ha sostituito la ritualità con la procedura mi sembra comunque qualcosa che ha a che fare con una ritualità molto arcaica e quindi semplicemente il mio travestimento più emozionante per me è stato andare in barbagia girare giorni e finalmente trovare una maschera da Boes che è una maschera di di legno fatta da da un artigiano che l'aveva ricavata da un da un pero ed era una maschera animale ci ho dormito insieme per una notte gli carezzavo il muso quasi e quando finalmente me la sono messa sulla faccia è stato come cambiare volto proprio e quasi è quasi sentire veramente questa questa nuova natura questo nuovo volto che 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 si sovrapponeva a quello e quindi anche solo nel quando mi sono visto in uno specchio che ero un'altra cosa quale scandalo c'è dietro questa cosa ma lo scandalo forse è quello di di rivelare le proprie pulsioni più interne penso che il rapporto con l'animale molte religioni sciamani che mi pongono al centro la prima esperienza è quella di trovare l'animale totemico io credo che ne abbiamo una foresta perché siamo molte cose molti se usiamo per l'ennesima volta gli animali per preparare della nostra natura siamo molti animali insieme e mostrarli da sempre scandalo ed è lo scandalo del rompere la convenzione insomma è la la cosa buffa no? che il termine proprio persona viene da una maschera parlare attraverso la maschera e questo è quello che ci definisce come persone quindi in un certo senso il travestimento rituale è proprio uno smontare quella quella maschera invece più fissa che abbiamo tutti i giorni grazie prego prego allora sì volevo chiedere a Vinicio Capostela se può in realtà più che altro sciogliere un dubbio sul quale mi sto arrovellando da quando ho ascoltato il disco appena uscito e la domanda è la seguente che rapporto c'è o se c'è un rapporto ma come si pone le loop garù rispetto a un altro lupo che si trovava nel disco precedente nelle canzoni della cupa ed era il puminale perché anche lì c'era questo tema di una particolare forma di licantropia addirittura lì compariva anche il maiale quindi in qualche modo la trasformazione in lupo aveva una qualche attinenza con la lussuria e d'altra parte però c'era anche sul finale della canzone una sorta di riflessione su cosa fosse il bene su cosa fosse il male se hai un diavolo dagli un nome quindi insomma volevo sapere ecco tra il lupo tra l'uomo lupo di questo disco e l'uomo lupo del precedente che rapporto c'è e insomma cosa entrambi significano di diverso e di uguale grazie questa è una domanda il pulminale sono tutti e due tra l'altro nomi uno in un'altra lingua questo è un termine dialettale e viene dal dal dialetto del del paese di mio padre in Irpinia ed è proprio il come posso dire il il lupo mannaro paesano ecco come si dice quello che di solito si dice che chi è nato a Natale per l'insolenza di essere nato nello stesso giorno di Nostro Signore subisca questo questo e non si sa neanche quello che dicono è che non è neanche che va a fare particolarmente i delitti semplicemente semplicemente sente l'esigenza di andarsi a sporcare e di 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 dicono nella trasonna cioè nella fogna di andarsi a a cercare refrigerio nelle acque della fogna quindi c'è questo questa cosa di andarsi come a sporcare e la storia di del pulminale nella canzone contenuta nella canzone della cupa è la storia di una di una molto molto non c'è nessuna trasformazione non ci sono peli non ci sono unghie è semplicemente la questo che se ne esce di notte e si incontra con una con una donna che tira fuori esclusivamente questo suo lato sensuale e quindi lei si chiama Maria Salute e gli ridà la salute in un certo senso e quindi e quindi se ne va però evidentemente della canzone deve avere famiglia deve essere sposato quindi fa qualcosa di insomma è la clandestinità a cui ci si abbandona nell'anonimato della notte è una storia naturalmente di campagna quindi ci sono gli alberi ci sono le masciare c'è tutto questo corredo qua e alla fine il verso finale dice se hai un diavolo dagli un nome battezzolo e fallo compare non scappare non rinegarlo battezzolo e fallo compare voglio dire alla fine è meglio forse riconoscere qual è la nostra più intima natura ad essere onesti e farci un po' pace piuttosto che dilaniarsi in e questa la storia invece dell'Ugaru è invece proprio una storia di licantropia la storia di 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 davvero con 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 l'animale in questo caso il il correre a quattro zampe sbranare i ricordi il pensiero è veramente una corsa a infrangere il limite del che la natura ha imposto che si sovrappone poi a quest'altra storia di di eh che ho raccontato prima del 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 manaro verso pelo di quello che si crede animale mi sembra molto bella questa questa immagine dell'avere un un lupo dentro no di avere il pelo al contrario invece che fuori quindi per difendersi dall'esterno averlo dentro in un certo senso significa difendersi dall'interno come se i veri demoni o qualcosa da cui ti devi difendere è è dentro qualcuna qualche domanda ehm io prego approfitto di avere un microfono in mano per ringraziarti per averci ammessi in quel luogo meraviglioso che è la tua fantasia e per aver serbato intatta in questi anni la grazia del tuo cuore come dici in uno dei miei testi preferiti e negli ultimi tempi il nostro paese si sta sentendo legittimato a mostrare un volto disumano e molti di noi non si sentono più a casa in Italia volevo chiederti se c'è stato un momento in cui ti sei sentito in armonia con il nostro paese in cui hai creduto di più nel nostro paese e se c'è un luogo che colleghi in particolare a questa esperienza ho sempre avuto un vago amore per la cultura popolare quindi per tutta una serie di per molto tempo mi è piaciuto rifugiarmi anche nel insomma un certo tipo di umanità che ancora parlasse in dialetto che avesse un rapporto come ancora intatto con la terra per questo che in un certo senso l'Irpinia che è sempre stato un luogo abbastanza sottratto alla storia è stato per me un posto abbastanza mitico però quando ho visto i risultati delle elezioni di ieri in un paese che non ha mai visto uno straniero vedere un partito di maggioranza votato tra l'altro io sono cresciuto in Emilia quando ancora insomma partiti come la Lega Nord avevano le idee più chiare ecco ce le avevano con i meridionali quindi io non riesco a capire come 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 è uno strano momento storico però senza entrare nella dittatura dell'attualità mi è sempre sicuramente mi sono sentito a casa con quel tipo di italianità che 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 ha che ha veramente questo buonsenso no questo questa questo sapere conciliare le cose metterle insieme è un tipo di 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 italianità che ho amato oltre quello è quella dei libri io credo che la vera il vero paese che abito è la lingua non conosco nessun'altra lingua bene al punto da poterne potermi ci perdere da potere scrivere da potere fare e quindi in un certo senso il mio senso di appartenenza è un'appartenenza che riguarda più che una categoria o l'altra di persone o di situazioni è proprio è proprio la lingua da abitare ecco che sia il dialetto oppure che sia una lettura bellissima credo che è il racconto la mia la casa dove mi sento bene quindi stare con persone che abbiano a cuore il racconto sia esso un racconto erudito per iscritto sia esso qualcosa che viene invece proprio dalla forma orale e la mia personale come dicono in Germania c'è questa bella differenza tra Waterland e AIMAT ecco questa AIMAT questo senso di casa di appartenenza lo riservo più più che a un territorio geografico proprio al racconto allora Vinicio il sacro è tutto ciò che è religione santità cultura etica preghiera il profano è la città razionalità logica tu parli della relazione tra il paradiso l'essere per la frattura dell'essere e tra l'essere e se stesso quindi ti volevo chiedere qual è il rapporto tra sacro e profano a me mi piace molto la definizione che c'è in un libricino di Agamben che si chiama profanazioni lui dice il sacro è qualcosa di sottratto all'uso il profano è qualcosa di restituito all'uso e questo è una cosa che voglio dire sperimentiamo anche nella vita nella vita di tutti i giorni in questo senso mi ricordo non so c'è un luogo dove andavo con la mia fidanzata precedente non ci vado più perché appunto è un luogo sacro ma nel momento in cui ci vado con la nuova fidanzata l'ho profanato e quindi l'ho restituito all'uso questo è un esempio da due soldi però che mi spiega molto bene il mondo secondo me sacro è qualsiasi cosa che mettiamo in una dimensione più incorruttibile che sottraiamo all'uso per sottrarlo appunto alla corruzione e profano è la restituzione di questa cosa che abbiamo messo da parte allo stesso tempo in un certo senso il lavoro che spesso si fa almeno che io cerco di fare con le canzoni e trasferire a una dimensione chiamiamo così di tempo mitico e in un certo senso anche sacro qualcosa che che viene dal dal tempo invece dell'affanno e del dal tempo orizzontale insomma che decade continuamente del del vivere ecco e allora sulla frattura nella prima parte della domanda c'era qualcosa sulla frattura è una cosa che mi mi sta molto a cuore perché la 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 vivo spesso questa questa frattura credo che ci sia in noi una una propensione all'unità che però è molto molto difficile a tenere unite le cose è molto difficile da raggiungere il fatto proprio di vivere significa continuamente fare piccole lacerazioni fratture separazioni perché siamo forse costretti a restituire all'uso continuamente delle cose quindi siamo dei profanatori seriali ma questo forse vale solo per me sì un'altra domanda per Vinicio Capossela e ritornando diciamo alla metafora dell'epidemia della peste quindi nell'album diciamo si prospetta la nostra epoca come un nuovo medioevo in qualche modo e quindi il flusso di dati in cui siamo immersi viene visto un po' come una peste e quindi la mia domanda la prima domanda è questa qual è la causa di questa malattia di questa epidemia e se esiste qual è la cura a questa epidemia insomma in cui ci ritroviamo immersi la seconda domanda sempre riguarda lo stesso argomento con riferimento alla canzone nuove tentazioni di Sant'Antonio leggevo il testo e comunque questo tema rientra ritorna nel testo della canzone almeno questo appunto della peste o comunque del fatto che la rete è vista quasi come una tentazione quindi questa era la domanda la rete cioè il mondo il flusso di dati in cui siamo immersi può anche essere una tentazione è questa grazie beh inizio dalla seconda è completamente pieno di tentazioni come tutti voi sapete insomma non è mai stato c'è questo libro di Calasso che si chiama l'innominabile attuale dove lui fa proprio riferimento a un cambiamento molto grande che avviene nelle società islamiche con l'accesso proprio alla pornografia conseguente alla rete mi spiego molto male naturalmente avere un territorio di completo accesso ad ogni genere di cosa è naturalmente un territorio pieno di tentazioni le tentazioni però a cui faccio riferimento allora la figura di Sant'Antonio Abate visto che abbiamo parlato di animali fino adesso è una figura che mi è molto cara perché nella notte di Sant'Antonio il 17 di gennaio è una notte molto rituale dove si fanno spesso i falò che iniziano a rigenerare insomma a risvegliare la terra all'uscita delle maschere questo fuoco purificatorio che è una ritualità in Sardegna ho visto buttare nel fuoco cartelle cliniche oppure di come si chiamano di Equitalia tutto buttato nel fuoco era veramente un fuoco catartico e poi questo affatto di Sant'Antonio Abate che comunque sia per alcuni va giù nell'inferno però allo stesso tempo è molto famoso per queste tentazioni ma io personalmente non ho mai capito quali fossero di principio anche dal quadro di Bosch sono tutte cose mostruose sì forse Fellini ci ha fatto vedere insomma bevete più latte era una tentazione molto più 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 carnale ma lei lei Chiara sa qualcosa di queste tentazioni di Sant'Antonio o è qualcosa di cui si è sempre parlato come una cosa proprio risaputa e beh Sant'Antonio aveva insomma sappiamo come è stato tentato e da cosa beh ci sono molti quadri che lo rappresentano nel Medioevo possono essere o animali animali spesso inventati o bellissime fanciulle perché una delle tentazioni ma anche qui nel Camposanto nella Tebaide si vede appunto queste tentazioni c'è una bellissima pellegrina che arriva dall'eremita che che chiede riposo per la notte ma noi lo capiamo che non è una pellegrina perché ha delle zampacce del diavolo e quindi l'idea del e soprattutto l'idea del peccato cioè le Medioevo si è ossessionati dai peccati possono avere tante forme quindi questi animali quasi sempre sono animali simbolici che rappresentano determinati animali e ovviamente la lussuria la fa da padrone ecco io avevo il sospetto che fosse una cosa piuttosto limitata ecco però mi sono proposto di capire ho detto bene ma se il male si presentasse ora al nostro abate che va giù all'inferno come come lo tenterebbe no ma sì certamente la lussuria ma roba da poco conto e allora mi sono le ho messe un po' in fila no e ho detto vabbè la prima tentazione è quella proprio di scendere all'inferno prendere il fuoco ma invece di portarlo su per accendere l'inferno impadronirsi dello stabilimento e diventare padrone lui stesso dell'inferno in modo da decidere chi ci vuole bruciare dentro la seconda tentazione è di prendere quel fuoco invece di usarlo per scintilla di ragione promete o porta il fuoco quindi la luce agli uomini così invece usarlo proprio per per accendere il rogo di inquisizione quindi la maggiore forma di oscurità delle cose e quindi oppure scaldare il nucleo del creato dopo averlo modificato insomma l'energia nucleare la cosa trovare sì però usarlo per 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 le armi nucleari oppure ecco sulla lussuria una nuova modifica dice alterare il fuoco della passione sostituire la passione insomma sostituire il desiderio con la pornografia questo è un tipo di generazione molto la lussuria ha subito insomma una volta era una cosa un po' più adesso ci sono nuove forme quello che sembra più interessante è proprio l'immagine stessa più che il vivere una cosa quindi questa è una tentazione recentissima che la tecnologia ci offre e poi in generale rispetto ai tempi la punire la coscienza è premiare la delazione bloccare il mondo con la paura e nel nome del paradiso fare un inferno e morirci dentro morirci dentro con chi vuoi tu cioè la tentazione principale è sempre che vabbè io posso anche distruggere tutto l'importante che lo faccio come voglio io e con chi voglio io ecco questo è stato una mia personale aggiornamento delle tentazioni Salve io volevo un attimo tornare sulla figura di Francesco D'Assisi perché penso sia emblematico di uno schema classico di come noi guardiamo a quello che è successo prima e alla realtà cioè del rapporto tra storia racconto e mito Francesco D'Assisi dovrebbe essere sia uno dei più grandi creatori di miti che ci è rimasto dal medioevo ha creato il mito della natività di Gesù quanto dovrebbe essere e sia un profondo studioso di quello che c'era dietro il mito di Gesù di Nazareth e probabilmente la prima persona dopo un millennio che va a prendere la storia del Vangelo e ci vede la profonda filosofia politico sociale di Gesù di Nazareth che la professoressa ha spiegato poco prima sull'esempio degli uccelli e del lupo e allora chiedevo a entrambi se è possibile chiedevo a un creatore di miti e a uno studioso e visceratore di miti se è possibile capire cosa c'è dietro sia al mito creato da Francesco della natività che a un altro dettaglio della sua vita che è quella che a un certo punto questa persona prende se ne va a est nel mondo islamico alla corte di califo sultano non mi ricordo esattamente cosa ci arriva da prigioniero e ci esce da persona invitata a restare e a evangelizzare il contato i nobili e il contato della popolazione se era possibile giusto capire due pezzi della vita di questa persona allora per quanto riguarda il presepio in realtà Francesco non ha inventato il presepio mi dispiace ma già si rappresentava c'erano dei drammi sacri in cui si rappresentava quello che secondo me è molto importante è il racconto di che cosa avviene cioè Francesco chiede delle cose molto strane perché per rappresentare lui dice io voglio rappresentare i disagi in cui si è trovato questo bambino nella fretta notte di Natale ma che cosa chiede chiede un bue vivo un asino vivo non chiede assolutamente il bambino non chiede assolutamente un ragazzino travestito da San Giuseppe o la Madonna e basta chiede quindi fieno il bue e l'asino allora il bue e l'asino anche Francesco lo sapeva appartengono ai vangeli apocrifi quindi è una richiesta molto strana quella che lui fa allora se si guarda perché ha fatto questa richiesta si vede che l'idea che lui ha di questo presepio è molto profonda cioè è una sconfessione della crociata cioè lui dice quando fa questa predica in cui addirittura uno degli astanti ha l'impressione che ci sia Francesco che solleva un bambino che non c'era che sembrava morto e che lui lo risveglia e il commento di Tommaso Racelano è che dice perché il messaggio d'amore di Cristo era morto negli astanti e Francesco lo fa rivivere ma che cosa significa allora il bue e l'asino perché li ha scelti perché se noi guardiamo da Sant'Agostino in avanti il bue e l'asino rappresentano gli ebrei e i pagani che nel tempo si sarebbero convertiti e il fienno rappresenta l'ostia quindi l'idea di Francesco come lui predica dice che non è necessario andare in Oriente e toccare i luoghi di Cristo e in nome di questo portare la morte ma invece bisogna per prima cosa cambiare l'idea e ritornare al Vangelo quindi l'idea del suo presepio è appunto che in realtà il bue e l'asino rappresentano queste popolazioni cioè gli ebrei e a questo punto i musulmani che piano piano nel tempo avrebbero incontrato il messaggio di Cristo quindi è un presepio estremamente importante per quanto riguarda invece i musulmani e il sultano noi siamo abituati appunto a parlare sempre di Francesco che va dal sultano non è assolutamente detto che Francesco abbia parlato mai col sultano Francesco va assolutamente spontaneamente va ad Amietta dove allora c'era schierato i crociati e la cosa straordinaria è quella che noi possiamo leggere da come quando lui torna scrive nella regola non bollata cioè la regola che non ha avuto l'approvazione del Papa e dei frati in cui lui dice come si deve vivere fra i musulmani cioè quello che lui dice non è quello di andare a predicare la verità agli infedeli ma lui dice per prima cosa non facciano i frati né liti né dispute confessino di essere cristiani e sottomessi ad ogni creatura quindi sottomessi anche ai musulmani e poi dice se piace a Dio cioè se si è creato una ragione di reciproco rispetto allora i frati provino a parlare di Dio e altrimenti rimangano e Dio il buon esempio questa è l'idea di Francesco cioè per dei musulmani che avevano sempre visto il volto violento dei cristiani che arrivavano e uccidevano e si impadronivano Francesco invece porta il messaggio del Vangelo e rimane talmente colpito dalla dignità e dall'affetto con cui lui e i suoi frati vengono raccolti che quando lui torna proprio copia delle cose del Corano per esempio lui scrive una lettera a tutti i leggitori dei popoli in cui chiede che ogni sera ci sia un sacerdote che sale sul campanile e chiami alla preghiera ed è evidentemente il muezzin oppure si mette a raccogliere i nomi di Allah e quando gli chiedono ma che cosa stai facendo lui dice Dio e sommo bene può essere declinato in molti modi la storia del sultano la racconta soltanto Bonaventura quindi è una fonte tardissima e per quanto riguarda poi le fiamme che noi vediamo bruciare negli affreschi di Assisi non si sono mai accese perché anche nel testo di Bonaventura praticamente il sultano risponde quando c'è questa sfida cioè Francesco dice con i tuoi consiglieri anch'io mi butto nel fuoco e chi dei due esce in leso è il campione della vera fede e allora il sultano avrebbe risposto no perché se per caso vinci tu io vengo linciato quindi queste fiamme non si sono mai accese ed ecco allora un'altra fake news perché perché c'è un un rimando ai domenicani che era l'ordine concorrente perché c'era stata una grande sfida fra i catari e San Domenico e San Domenico e i catari i catari avevano buttato i loro scritti nel fuoco San Domenico butta il Vangelo il Vangelo esce il leso quindi il messaggio che cos'è è che i domenicani buttavano un libro seppur sacro Francesco è pronto a buttare se stesso e quindi è molto più bravo di Domenico ma credo che sia stato esauriente ma io voglio aggiungere una domanda questa questa differenza insomma tra Domenicani e Francescani questo come ha detto prima di di parlare con l'esempio ecco mi sembra una cosa interessante questa sì è molto diversa cioè anche il pubblico che scelgono i Domenicani Domenico e Francesco cioè Domenico capisce che essenzialmente occorre un clero preparato che possa sostenere dispute sia con gli eretici sia con gli eretici ma le dispute che si facevano nel Medioevo non erano mai per convincere l'eretico erano per rafforzare la fede dei cristiani e quindi dovevano soprattutto cercare di umiliare gli eretici e sconfiggerli da un punto di vista dottrinale quindi la scelta dei Domenicani è una scelta colta Francesco invece sceglie tutto un altro pubblico è sempre in cammino e quindi quello che lui incontra sono sempre i poveri i contadini invece appunto i deriventi a cui predica con l'esempio a cui predica con l'esempio moltissimo e anche con le parole perché un'altra cosa che dobbiamo sempre ricordare è che Francesco era uno straordinario comunicatore doveva avere una voce bellissima una grandissima capacità di parlare questo ci è testimoniato da una quantità di fonti contemporanee che dicono che lui parlava in una maniera diversa perché appunto non cominciava con il versetto biblico in latino e poi lo spiegava si dice parlava ad modum concionantis come fosse un avvocato come fosse un grande oratore e l'altra cosa straordinaria di Francesco è che sempre tiene presente qual è il pubblico che gli è davanti e calibra il suo discorso appunto a secondo del pubblico quindi per esempio quando lui arriva a Perugia dove ci sono dei cavalieri che oltretutto ce l'avevano con gli assisani e quindi provocano un grande rumore non lo stanno a sentire lui comincia con una canzone d'amore piuttosto osè che comincia tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto a questo punto i cavalieri rimangono stupidissimi e allora lui continua a predicare mi chiedevo appunto visto che il titolo era speranze pestine e pestilenze dove fosse finita la speranza però invece vedo che quest'ultima parte è un po' avvirato la speranza di Francesco diciamo in quell'epoca buia è abbastanza venuta fuori e invece oggi in che cosa e come secondo voi è possibile sperare nonostante questi cenni di nuovo medioevo e poi volevo fare un'osservazione che tra la lussuria e la pornografia c'è stata un'epoca non tanto lontana in cui si è parlata di eros e civiltà insomma c'è stato anche un altro modo di vivere e che non è insomma non è così lontana e spero di cui non si sia perso per strada anche per illuminare il presente oggi questa parola di diciamo questa necessità di usare la parola amore in un senso molto lato sovraccarico che torna fuori perché sennò sembra che non che non ci sia da nessuna parte insomma ecco la speranza qui mi sento preso in causa quindi naturalmente quello a cui facevo riferimento erano le tentazioni del male il male come come declina cioè come capovolge il senso del bene chiaramente quello è il lato voltato in mano di una cosa che di per sé è bene quindi l'amore questa è una corruzione diciamo dell'amore non voglio dire che sia che sia una cosa che vince sull'altra io credo che la speranza in un mondo cioè per quello che è il nostro questo è un momento in cui se vogliamo anche solo limitarci a questa allegoria insomma della rete è vero che che può viaggiare di tutto in questo strumento di trasmissione ma tra questo tutto c'è anche la conoscenza c'è anche il bene tutto questo è affidato a un nostro senso di di responsabilità siamo chiamati abbiamo sempre più strumenti sempre più possibilità e molto sempre di più dipende dalla dal nostro grado di consapevolezza e di e di senso di responsabilità ci dobbiamo un po' come posso dire i disciplini che 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 campeggiano lì nella nella bella siamo lì avevano tutta una disciplina siamo forse chiamati noi avere la avere la avere un un senso di responsabilità interiore verso noi stessi e verso gli altri e io penso che questo è da questo che passi la speranza non vedo delle speranze trascendentali credo che questo sia quello che è necessario per per migliorarsi che insomma tutto sommato quello a cui tende la speranza lei un'ultima domanda volevo chiedere scusi ma io non so veramente rispondere ma penso che quello che mi pare stia mancando è il senso di umanità di empatia di attenzione agli altri e quindi la speranza è che questo lo recuperiamo e forse dicendo una cosa proprio quello che penso io è che se invece di continuare a scrivere quello che noi insomma uno ha mangiato la pizza e fa fa un post ecco se invece noi leggessimo un libro penso che sarebbe molto più importante quindi se sentissimo più voci degli altri piuttosto che essere sempre noi in primo piano questa è una grande speranza sono d'accordo io volevo soltanto chiederle chiedervi ci sono alcune interpretazioni che dichiarano che Francesco secondo la teoria Giacchimita di Giacchino da Fiore era praticamente il il ritorno di di Gesù in terra cioè praticamente era l'incarnazione dello Spirito Santo Francesco secondo la teoria di Giacchimita e in realtà rispetto a tutte le cose insomma che lei sta evidenziando rispetto a cioè a Francesco che appunto viveva di esempio e non di lotta e non di conversione che è stata una cosa terribile che a volte hanno fatto i cristiani fuori io sono stata appunto in Messico insomma ho visto le cose abominevoli una capacità come lei comunque sta comunicando di amore così grande da essere capace di essere insieme a tutti e servo di tutti come faceva Dio perché rispetto anche a Domenico come lei diceva ora Domenico comunque diciamo appunto gettava il libro e non gettava se stesso ma il discorso è che è vera quindi questa possibilità che Francesco fosse una reincarnazione del Cristo comunque non del Cristo ma dello Spirito Santo cioè nel senso è l'idea di rispetto a questa disumanità che viviamo lei giustamente diceva ora di leggere un libro quindi di ascoltare più la voce degli altri ma quanto questa società ha cancellato il sacro ha cancellato il rito cioè sembra tutto poco importante rispetto a qualcosa che nella sacralità è l'unica cosa che ci mette davanti a noi stessi non so rispondo io ma allora le teorie gioachimite sono un pochino diverse cioè la grande idea di gioachino da fiore era quella che c'era già stata l'età del padre c'era stata l'età del figlio non c'era ancora l'età dello Spirito Santo che sarebbe avvenuta Francesco non parla mai di gioachino da fiore e certamente non aveva nessuna idea gioachimita invece c'è stato un grande scandalo nell'ordine francescano perché addirittura un ministro generale insomma uno dei capi Giovanni da Parma viene accusato di essere gioachimita e Bonaventura aveva cercato anche di metterlo in prigione possibilmente ucciderlo dopodiché però effettivamente i francescani interpretano a loro modo le idee di gioachino da fiore che sono diverse e pensano che effettivamente l'angelo del sesto sigillo che ha il segno del dio vivente in realtà rappresentava San Francesco e quello che proprio nel mio ultimo libro ho cercato di dimostrare è che negli affreschi di Assisi si basano sì sulla biografia di Bonaventura ma anche e molto su di un'altra sua opera che sono le collazioni in Exameron in cui Bonaventura praticamente recupera tutte le teorie gioachimite e spiega che Francesco in realtà è un prototipo che è stato mandato da dio e che tornerà alla fine dei tempi dopo che è venuto l'anticristo e a questo punto anche l'ordine serafico avrà un suo spazio quindi in questo modo riesce a mettere insieme l'idea di un santo santissimo ma improponibile ai francescani perché i francescani intanto si devono preparare alla perfezione degli ultimi tempi e questo è rappresentato proprio nella basilica di Assisi perché negli affreschi di Cimabù si vede appunto l'angelo del sesto sigillo adesso non ho qui il tempo di dimostrarlo ecco però per dire come negli affreschi convivano queste idee basta guardare il fatto che Francesco è sempre rappresentato con i piedi nudi tutti i suoi compagni hanno invece gli zoccoli cioè Francesco quindi c'è questa compresenza di un Francesco mitico che ritornerà e dei francescani che sono in cammino verso la perfezione forse chiuderei con questa dove ci sta parlando questo imitatio Cristi questo fatto che tutto sommato forse dopo dopo la figura evangelica insomma l'unico serio tentativo di avvicinarsi a quel tipo anche di nozione così semplice la buona novella amo il prossimo tuo come te stesso pare che mi sembrava di capire dalla domanda che ci potesse essere questa contraddizione tra quello che è stato sempre appunto diceva la nostra signora diceva sono state in Messico e quanti crimini il sangue versato in nome insomma diciamo così della croce come simbolo di 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 potenza quanto sia in contraddizione con il messaggio proprio principale base che invece Francesco raccoglie io in questo disco ho fatto una canzone che si chiama il povero Cristo dove insomma mi pare davvero che il che il Cristo soprattutto anche qui nell'attualità venga un po' tirata a destra a sinistra tutti lo vogliono primo nella loro lista ma piuttosto che da vivo a dare il buon ufficio è meglio averlo zitto e morto in sacrificio nel senso che è una figura che può essere da un lato usata come bandiera di una civiltà o di una inciviltà e allo stesso tempo trascurata proprio tradita in quello che è il suo messaggio essenziale che invece Francesco riprende a suo parere che il Cristo dell'Evangelo e Francesco che 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 tipo di 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 figura potrebbero rappresentare nel mondo contemporaneo così come siamo messi insomma e anche rispetto all'uso che si fa insomma del simbolo della croce insomma c'è una grande contraddizione secondo me tra il messaggio cristiano proprio rivoluzionario portato poi avanti da Francesco che è un messaggio di amore universale e l'uso proprio del simbolo della croce proprio come dalle crociate in poi come 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 bandiere insomma per perché è l'uso ma è la stessa cosa sempre di tutte le ideologie cioè dipende poi come si come si praticano come si mettono in pratica perché tutta la storia in fondo della della chiesa si basa sempre sul Vangelo in nome del Vangelo sono appunto successe le cose più 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 tragiche quindi io credo che dobbiamo sperare che venga un altro Francesco l'età nello spirito sarebbe finalmente grazie grazie miglia agli ospiti e quindi auguro a tutti buona serata e grazie 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 grazie